Il 14 settembre gran parte delle scuole italiane riprenderanno a funzionare a pieno regime con la didattica. Certo, abbiamo ancora molti problemi risolti, mancano in molti casi aule spaziose che permettano il distanziamento, per cui i ragazzi dovranno adoperare sempre la mascherina, soprattutto quando stanno insieme in classe o durante l'intervallo o momenti di aggregazione. In qualche caso ci sono anche lavori di edilizia leggera che si stanno svolgendo nelle varie scuole, però noi confidiamo che la maggior parte delle scuole possa aprire sia pure con orario ridotto. Ma ci tengo a dire che questa è una consuetudine ormai che dura da almeno 15-20 anni, perché mai i primi giorni di scuola, per una serie di motivi tecnici, si sono potuti avere tutti gli insegnanti. Laddove invece è stato stabilito, per esempio dalla regione Lazio, non sarà possibile proprio materialmente portare i ragazzi a scuola il 14, sarà differita l'entrata degli studenti dopo il referendum, per esempio per motivazioni molto valide che devono essere accertate, motivate e indicate dai consigli di istituto, che sono quell'organo che decide tutte queste questioni, in raccordo con l'ente locale, perché il comune e la provincia dovranno poi stabilire quando mandare ad esempio l'assistente alla comunicazione per i ragazzi disabiti, il pulmino, lo scuolabus e così via. Cioè solo con un raccordo fra le varie istituzioni noi possiamo dire che, nonostante l'epidemia, si comincerà un anno scolastico con molta difficoltà, ma con molta speranza di riuscire a superare una situazione che non si era mai presentata prima nel nostro paese.